La vertenza Gela è costantemente eseguita con particolare attenzione da parte della Giunta Comunale. Non può dirsi la stessa cosa del Governo regionale presieduto dal gelese Rosario Crocetta. Se molti progetti sono fermi, la responsabilità è solo del Governatore. Parla chiaro, senza giri di parole, il sindaco domenico messinese e l'indice accusatorio è puntato all'indirizzo di Crocetta e non solo. In Vitalia di fatto è fermo perché c'è una delibera di Giunta ferma da oltre tre mesi che va a definire la perimetrazione. I soldi delle commentazioni non si spendono perché il Presidente della Regione, Rosario Crocetta, non si riesce a trovare. Fra le altre cose quasi 20 milioni di euro sono stati già definiti insieme ai capi gruppo del Consiglio Comunale. Ma il problema non è solo esclusivamente a livello industriale che forse è quello più evidente, ma anche a livello sanitario. Io vorrei ricordare che il pronto soccorso non si apre, ci sono responsabilità del Presidente della Regione, l'Unti non si apre di responsabilità del Presidente della Regione, l'Unti non si apre di responsabilità del Presidente della Regione, gli organici sono insufficienti di responsabilità del Presidente della Regione. È inutile additare al dottor Iagona che è il quale d'altronde è stato messo là, ma se non vengono date le risorse di fatto sicuramente non può dare le risposte. Qui è un problema politico ben chiaro. Io ricordo che siamo all'interno di un'area di crisi complessa che è stata certificata, siamo in un'area di crisi a livello ambientale, ma di fatto non viene fatto nulla, c'è un immobilismo totale. Quindi il Presidente Crocetta che venga qui a Gela a firmare tutti i documenti che sbloccheranno tutta una serie di attività e danno un ristoro immediato al territorio e che possono dargli un futuro reale. È inutile che giochiamo a rimpiattino andando a fare dei congressi del PD dove praticamente si cerca di scaricare a questa amministrazione, quando in realtà i problemi più grossi sono a livello regionale e nazionale, dove vorrei ricordare, che sono rappresentati dal PD o dalle forze che lo sostengono. E questo è estremamente grave. Prima di poter cercare un capo espetorio che sicuramente non è l'amministrazione che ha sempre mostrato di fare gli interessi di tutti i cittadini gelesi, non di parte, non di partito e nemmeno di lobby e che quindi praticamente fa gli interessi di tutta la collettività, cortesemente che vadano a sollecitare i propri rappresentanti a muoversi per poter fare qualcosa per la città e non per essere i mandanti come Renzi nella distruzione della città di Gela e trovare degli esecutori come il presidente della regione Rosario Crocetta insieme all'ex sindaco che di fatti hanno consegnato questa città in una situazione pietosa. Il vice sindaco Simone Siciliano è intervenuto sugli aspetti tecnici che riguardano la vertenza Eni. La vertenza Gela è una vertenza a carattere ministeriale, lo è perché questa amministrazione ha portato nel tavolo del ministero di sviluppo economico la bozza di accordi di programma in essere, la vertenza quindi diventa nazionale e discussa nel tavolo in cui i quattro ministeri fondamentali possono trattarla e possono risolverla. In questa trattazione spesso e volentieri si notano le inerze burocratiche tipiche di una regione che fatica a decollare e nello specifico l'accordo di programma subisce un rallentamento proprio perché in giunta regionale la delibera di perimetrazione dell'area su cui l'amministrazione assieme ai dirigenti e quindi ai funzionari della regione e al ministero di sviluppo economico di concerto con Invitale ha lavorato e quindi rimane ferma in attesa che la giunta regionale la firmi e possa consentire a Invitale di destinare le somme che afferiscono a carico della regione rispetto a quelle che afferiscono a carico del governo centrale per contrastare la crisi gelese. Per la prima volta nella diogesi di Piazza Almerina associazioni di volontariato si sono riunite tutte assieme nell'ambito del giubileo degli ammalati e dei disabili appuntamento a Gela con i propri labari e le proprie divise hanno colto l'icona della graziosa vergine degli ammalati che ha dato inizio alla devozione della Madonna delle Grazie venerata nella chiesa dei Cappuccini. Questo giubileo certo che si aggiunge agli altri giubilei che abbiamo già celebrato ancora qualcuno è da celebrare ma certo questo che mette al centro l'ammalato credo che sia il più importante adesso senza voler fare nessun tipo di confronto perché partirei da quello che Gesù in qualche modo nella sua pastorale ha evidenziato il malato il povero il misero è davvero il motivo centrale della sua del suo annuncio della predicazione del regno e certo a questo si aggiunge chiaramente alla presenza di tutte le associazioni di volontariato perché perché l'amore è gratuito e quando noi disseminiamo amore attorno a noi con gesti di accoglienza di solidarietà ecco che allora diciamo si esprime una un volontariato che sempre più diventa solido e che a mio parere sosterrà anche l'impegno di tutte le varie istituzioni tra cui certamente anche quelle ecclesiasti. Ecco ma l'ammalato vi chiede soltanto un gesto di solidarietà, un gesto di altruismo o vi chiede qualcos'altro? Beh quando noi parliamo di solidarietà intentiamo certamente questo impegno come dice Paolo di portare l'uno i pesi degli altri. È chiaro che qui per solidarietà e il volontariato avrebbe anche questo significato è quello di farsi carico e di farsi carico alla maniera samaritana cioè portando il peso dell'altro ma fino alla diciamo così perfetta condivisione e se possibile rilancio dell'esistenza dell'altro. L'iniziativa si è svolta con il pellegrinaggio giubilare e si è conclusa nella parrocchia di San Sebastiano con la celebrazione eucaristica. Una cerimonia sobria ed elegante, onusta di profonde emozioni ha dato vita alla conclusione della 34esima edizione del premio letterario nazionale Terra d'Agavi ideato e organizzato dal Rotary International Club di Gela presieduto dall'avvocato Gualtiero Cataldo. Un bilancio decisamente positivo per l'aspetto della continuità che siamo riusciti a dare al premio e per l'aspetto della particolare riuscita della serata. A livello locale sicuramente è il premio più antico ancora attivo e ci crediamo e ci diamo da fare perché continua a essere per i prossimi anni il fiore all'occhiello del Rotary e uno dei fiori all'occhiello della nostra città di Gela. Abbiamo sempre storicamente avuto dei presidenti delle commissioni che sono stati sempre o sono diventati degli scrittori famosi. Abbiamo avuto Leonardo Sciasci, abbiamo avuto altri nomi decisamente famosi. Quest'anno nella tradizione abbiamo scelto una scrittrice che interpretava la sicilianità. All'interno della Pinacoteca di Gela hanno trovato spazio una scenografia a tema in linea con la denominazione dell'evento e le note straordinarie eseguite al pianoforte dal giovane talento gelese Sara Casa. A presiedere la commissione che ha valutato le circa 80 opere letterarie giunte da tutto il territorio nazionale la nota scrittrice Cristina Cassarscalia, l'autrice più letta in Sicilia nel 2015. Un premio letterario è sempre qualcosa di molto importante. Poi un premio letterario che esiste da 34 anni e che ha visto susseguirsi tutti questi scrittori, questi poeti, credo che diventi ancora più importante. Quindi questa è la parte più interessante e anche la parte che dà più responsabilità, senza dubbio. L'Esanza dello Scirocco l'ha consacrata come scrittrice alla ribalta nazionale. Da dove è nata l'ispirazione di questo romanzo? L'ispirazione di questo romanzo è nata dal... beh, doveva essere un romanzo siciliano. È nato sullo stretto di Messina, proprio in uno dei tanti viaggi che tutti noi siamo abituati a fare e che finiscono sempre, concludono sempre con lo stretto di Messina. Ero proprio lì, ho iniziato, ho scritto l'incipit lì, l'ho vergato proprio lì ed è rimasto sempre uguale. Poi doveva essere un libro che raccontasse la Sicilia, la Sicilia di un'epoca un po' diversa dalla nostra, forse l'ultima delle epoche antiche, un po' l'ultima epoca in cui la Sicilia, soprattutto i paesi della Sicilia, si sono discostati sia dal punto di vista della mentalità, della cultura e anche delle abitudini dalle città del nord Italia e che era l'inizio del 1968. Avete inoltrato anche delle diffide da adempiere? Sì, abbiamo inviato delle diffide, non solo come comitati, ma anche le amministrazioni hanno inviato, ognuno per ogni amministrazione, una diffida nei confronti del Presidente della Regione, dell'assessore regionale agli enti locali, ad Ardizzone e anche al Presidente, al Sindaco metropolitano di Catania, per appunto avvisarli di fermarsi nell'indire le elezioni dell'ente intermedio, perché fin quando Gela, Piazza Media, Niscemi e Lico di Obea non hanno concluso il loro iter di trasferimento, le elezioni in Sicilia non si possono indire e quindi noi saremo pronti, qualora loro avessero intenzione di farlo, a bloccare queste elezioni. Bloccheremo le elezioni dell'ente intermedio, quindi è bene che la Regione sappia il rischio che sta accorrendo nel giocare, perché stiamo giocando ed è vergognoso nei confronti e nel rispetto di tutti i siciliani continuare a fare queste cose, stiamo giocando con una vicenda che è democraticamente chiusa. I sindaci dei tre comuni stanno semplicemente chiedendo che venga rispettata la volontà popolare, plebiscitaria. Senza entrare nel merito di ogni singola motivazione o convinzione, di fatto è un atto che comunque alla fine qualcuno sta cercando, dopo che ha fatto le regole, di nuovamente mischiare le carte per impedire quello che hanno deciso le comunità. Quindi è un paradosso che sinceramente è un'offesa a queste comunità che hanno perso una decisione con degli atti ufficiali fatti sia dall'amministrazione, ma dai consigli comunali e dagli stessi cittadini tramite un referendum. Di conseguenza la cosa effettivamente ha una gravità notevole perché significa la morte della democrazia, perché la democrazia vuol dire che il popolo può decidere. Io aspetto che mi nomino un commissario per stabilire il passaggio di Niscemi con l'area metropolitana oppure che dica no, un commissario praticamente. Questo è quello che riesce a fare la politica in questo momento. Una cosa è certa comunque. Oltre alla Costituzione per vedere come è possibile far rispettare le regole, io già ho predisposto gli atti per chiedere i danni e quindi domani la delibera è pronta. Delibererò per vedere se ci sono le condizioni per farmi ripagare dei danni ricevuti come immagine da parte dell'Assemblea regionale. Il popolo di quattro comunità ha deciso una possibilità, un'opportunità che la legge stessa determinava. Si è espresso con due consigli comunali, si è espresso con un referendum e sentiamo queste situazioni che davvero hanno ben poco a che fare con la democrazia. Allora proprio perché viviamo in un paese democratico e crediamo alla democrazia, noi lotteremo affinché la democrazia venga rispettata e venga rispettata la volontà dei nostri cittadini. Non si può modificare una volontà che da parte di pochi quando la maggioranza invece ha deciso un passaggio. Abbandonato e ricettacolo di rifiuti di ogni genere sarà ripulito nelle prossime ore dalla cooperativa sociale ex detenuti di Gela. Stiamo parlando del giardino dell'Acropoli adegente al Museo archeologico regionale. L'area, così come dimostrano le immagini, è degradata in ogni dove. Grazie al Lions Club Gela, presieduto dall'avvocato Tonino Gagliano, che ha ricevuto dall'amministrazione comunale l'affidamento del giardino, i fratelli Rocco e Angelo Bassora si metteranno al lavoro al fine di ripulirla. Una forma di riscatto sociale per chi negli anni si è immacchiato di diversi reati e ha scontato i propri conti con la giustizia. Noi daremo come il massimo il nostro contributo a pulirla e spero che dopo che finisco questo l'amministrazione comunale e il sindaco ci da la possibilità di lavorare anche a pulire Gela, il mio paese. I due fratelli vogliono contribuire alla crescita della società e chiedono una ulteriore mano d'aiuto al comune. E' una possibilità che noi chiediamo della massima umiltà perché ci sono padri di famiglia come me che hanno bisogno di lavorare però non hanno la forza di parlare della televisione e non hanno lo spirito combattivo quello mio e hanno la speranza che io gli do il lavoro. Io chiedo all'amministrazione comunale veramente con tutto il cuore se ci può dare una mano a vivere onestamente. Noi non chiediamo niente, noi chiediamo solo mezza giornata di lavoro e non uno stipendio o uno stipendio sa che cosa, con 6-700 euro al mese noi possiamo vivere con la massima serenità e tranquillità, noi chiediamo questo. Noi possiamo fare qualsiasi lavoro, no a parte questo, possiamo fare il lavoro dell'edilizia, della metà meccanica, di pubblicità, di bianchini, possiamo fare tutto, tutti i lavori che ci sono li possiamo fare e noi li faremo sempre al meglio e daremo il massimo. Il passato è stato riposto nel dimenticatoio, bisogna guardare solo avanti. Ora sono padre di tre figli e capisco gli errori che ho fatto, certo, ora parlo di una persona di 44 anni, gli errori io li ho fatti a 18-20 anni, mi mancava tutta l'esperienza e non avevo l'esperienza che ho oggi e oggi capisco veramente che cosa significa sbagliare e che cosa significa fare le cose giuste. E un consiglio che diamo ai giovani che purtroppo delinquono? Il consiglio che do ai giovani è di non sbagliare e di pensare veramente, di vivere onestamente perché c'è tutto da perdere. Sarà dedicato al celebre poeta gelese Archestrato il progetto ideato dall'Associazione Gli Amici di Antifem e Dentimo e proposto alla direzione della casa circondariale di Contrada Balate a Gela. È previsto per i detenuti un percorso tra competenze gastronomiche e storiche alla scoperta della cucina gelese di Archestrato. Il progetto consta di due fasi, una prima fase esecutiva con la preparazione di alcuni piatti tipici della cucina gelese che si rifà al mio libro scritto anni fa. E la seconda parte è quella che gli stessi detenuti alla fine del corso, assieme agli chef che io ho coinvolti di Appetiting e Ciaramella, prepareranno una cena per ospiti che verranno dall'esterno, i quali dietro un contributo che poi sarà devoluto a fine di beneficenza e si è stabilito di devolverlo alla AIRC. Non è una cosa sterile legata solamente al cibo, alla cucina, ma è benessere. Anche qui l'esterno ci aiuta, compartecipa per migliorare il benessere all'interno della casa circondariale di Gela. La presenza di due chef, chef Ciaramella e chef Totò Catania, insieme all'Associazione Culturale Gli Amici di Antifemma ed Entimo, ci ha dato l'occasione di creare questo progetto che in una prima fase curerà l'elaborazione di piatti culinari, della tradizione di Gela, siciliano in generale, anche rivisitati in termini così futuristici. E poi una seconda parte, ipotizziamo una cena aperta, un galà aperto un po' alle autorità e ad altri amici del carcere, in partner con l'AIRC, anche per lo scopo di promuovere la prevenzione dei tumori. Oggi con i partecipanti al corso svilupperemo un antipasso della tradizione gelese, l'insalata d'arance, in due versioni. La versione tradizionale, quindi la ricetta originale, è una versione, una rivisitazione moderna che sarà una tartara di manzo con i profumi dell'insalata d'arance. In occasione di questa iniziativa nella categoria circondariale, stiamo cercando di creare quello che ha lasciato la tradizione di Archestrado. Cerco di preparare come primi piatti delle taglioline a base di ceci e dell'essenza di cotenna, dando la tradizione di quello che erano i nostri tempi. Si rifiutarono di pagare la sanzione pecuniaria inflitta loro dal procuratore della Corte dei Conti, il dottore Sperandeo, sostenendo di aver agito in buona fede in merito agli atti messi a loro disposizione dagli uffici comunali competenti. Vennero assolti, ma i magistrati della Procura Generale scelsero di impugnare la sentenza dello scorso 24 settembre, rivolgendosi alla Corte d'Appello. Ieri è arrivata una nuova e definitiva assoluzione per l'ex Assessore Comunale della Giunta Fasulo, Marina Laboria, che reggeva la pubblica istruzione, e per l'ex Consigliere Comunale, Terenziano Di Stefano, già capogruppo di Articolo 4. La vicenda è riferita ai bilanci consuntivi del Comune di Gela dal 2010 al 2012. Tutti gli altri, una trentina, tra Sindaco, Assessori e Consigliere Comunali, per timore di non potersi ricandidare o di risultare ineleggibili, pagarono la sanzione inflitta dalla Corte dei Conti, ammettendo la loro responsabilità di avere eluso il patto di stabilità. Fin dal primo momento, Laboria e Di Stefano avevano escluso di aver avuto responsabilità nell'intera procedura contestata dai magistrati contabili. Se avessero pagato, come gli altri, avrebbero ammesso le loro responsabilità. Difesi dall'Avvocato Girolamo Rubino, del Foro di Palermo, i due ex amministratori comunali hanno affrontato i processi e ne sono usciti, come dicevamo, assolti. La grave crisi occupazionale complessiva dal territorio gelese è stata al centro dei numerosi incontri avuti a Roma dal coordinamento donne con le alte cariche dello Stato. È stata chiesta l'attuazione di politiche di sostegno volte al mantenimento degli accordi intrapresi nei mesi scorsi e quella legata allo sviluppo di nuovi settori di investimento che coinvolgano e promuovano le risorse di cui Gela dispone. Il primo incontro, le sette donne gelesi, l'hanno avuto con il Presidente della Camera, Laura Boldrini. La loro attività, quella di mettersi insieme per il presente e il futuro del loro territorio, merita ascolto. Merita ascolto da parte di tutti, del Parlamento, ma anche da parte del Governo perché loro stanno facendo quest'azione dal basso per riuscire a far vivere il proprio territorio. Quindi si occupano appunto di far sì che questo territorio non crei malattie, cosa che sta accadendo oggi e che questo territorio continui a vivere, ma non dovendo fare una scelta tra la salute e il lavoro, ma riuscendo a essere un luogo invece dove si può andare avanti, vivere in salute. Quindi mi sembra doveroso riuscire a unire le forze e a cercare una soluzione. Quindi per me questo incontro è stato un momento importante e mi auguro che queste donne non vengano lasciate sole. Luciana Garfì e Valeria Caci del coordinamento Donne Gialesi. C'è una grande attenzione da parte della Presidente della Camera che ha già preso una serie di impegni, quindi incontrare l'amministratore delegato dell'Eni, incontrare il Ministro Lorenzin, Ministro della Salute e il Ministro dell'Ambiente Galletti. Questo lo farà nelle prossime settimane. Poi chiaramente abbiamo incontrato il sottosegretario Bellanova, a cui abbiamo sottoposto una serie di questioni che riguardano il nostro territorio, bonifiche, lavoro, politiche attive e politiche di rilancio per il nostro territorio. Abbiamo incontrato Damiano, Presidente della Commissione Lavoro, che ci ha dato dei suggerimenti su come mettere in movimento alcune questioni, dall'altra lui si occupa di politiche passive, quindi su quello possiamo premere in quella direzione. Le donne di Gela sono scese in campo sotto la stessa bandiera che quella della città di Gela per mantenere alta l'attenzione su questa città e su quello che giornalmente succede. Abbiamo portato a Roma il cuore delle madri gelesi, abbiamo portato a Roma i problemi delle famiglie che ogni giorno lottano contro tumori dei bambini nati malformati. Ci siamo accorti che il Governo è molto attento a questa problematica e ha deciso di scendere in campo insieme a noi. Comandante, la consacrazione dell'operazione Mare Sicura è arrivata ieri a Roma nel corso di una cerimonia. È stata presentata dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto insieme ai Ministeri delle Infrastrutture e Trasporti e dell'Ambiente, il Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestali. 25 anni di successi. Sì, 25 anni di controlli assidui delle nostre donne, uomini del corpo per prevenzione, per prevenire eventuali problemi che ci possono essere a mare, per la sicurezza in mare, per la filiera della pesca, per l'ambiente, per tutelare il nostro patrimonio naturalistico, ma specialmente per tutelare la vita umana in mare. L'operazione Mare Sicuro è più un'operazione di prevenzione, prima di tutto un'operazione di prevenzione e in seconda battuta di repressione. Ma voi tendete a dare invece delle informazioni anche grazie al bollino blu che consente di vivere serenamente il mare in estate? Allora, sì, chiaramente prima viene fatta la prevenzione, soprattutto per quanto riguarda, sono state fatte opinioni di coordinamento sia con i gestori, con gli enti comunali, anche con le forze poliziere entrando in mare, dove abbiamo un po' detto quali sono le linee guida di quest'operazione Mare Sicuro. Il bollino blu è taggettato, taggato e ha tagliato soltanto per i diportisti, ad eccezione di chi per gli acquascute, che non rientrano in questa agevolazione del bollino blu. I diportisti più virtuosi si fanno controllare sia a terra che a mare, una volta che le dotazioni di sicurezza risultano a posto, le documentazioni risulta ok, viene rilasciato questo bollino blu e permette la navigazione tranquilla, la giornata tranquilla di mare, senza essere controllati più volte dalle varie forze operanti in mare. Chiaramente tutto questo viene meno quando il diportista assume un comportamento contra l'Egem. Siamo ancora ad inizio stagione ma sono già state elevate da parte vostra 23 sanzioni e si è registrato uno sversamento, che cosa rischia chi non rispetta le regole? Chi non rispetta le regole rischia in questo caso, diciamo per una sosta in spiaggia, rischia una sanzione amministrativa di 206 euro. Ma anche noi possiamo non contestarli sul momento ma attraverso le fotografie riusciamo a risalire dalla banca dati del ministro e del proprietario quindi mandiamo tutto a casa con la sanzione amministrativa direttamente a casa. Per quanto riguarda lo sversamento abbiamo avuto a fine maggio, durante le piogge che ci sono state a fine maggio, un sversamento al lato levante del porto rifugio dove c'è il troppo pieno dell'intergestore calta acqua di acque fognari. Abbiamo fatto le analisi, abbiamo portato tutto all'ARPA, stiamo attendendo risultati delle analisi e poi vediamo un attimo cosa fare anche perché dobbiamo mandare il rapporto totalmente alla provincia. Invece di portisti che pongono in essere una condotta negligente e quindi non rispettano le regole cosa rischiano? Allora rischiano il verbale amministrativo che è super giusto i 100 euro o 200 euro dipende anche il tipo di unità navale. Per quanto riguarda gli acquascute chi va sotto costa e fa una navigazione sotto costa rischia il verbale per navigazione sotto costa ma se questa navigazione si perpetra tra i bagnanti può essere anche sanzionato pedalmente e rischia anche la confisca del mezzo. Protesta sui generi si è di pomeriggio a Gela. I residenti della rione Stazione Vecchia hanno bloccato il transito stradale in entrambi i sensi di marcia in via Tevere sedendosi su delle sedie poste al centro della careggiata. Protestano in merito allo stato di abbandono in cui versano gli alberi cresciuti a dismisura per le condizioni di degrado in cui si trova la zona. Chi convive con le allergie hanno detto non riesce a sopportare la presenza di una vegetazione così folta. Io non ho idea quando soffro. Ma qual è il motivo? Perché io ho allergie da mattina fino a sera. Ma per gli alberi? Per gli alberi. Li vedi queste cose? Tutte queste io abito lì. A casa mia vengono a migliaia di queste. E lei blocca la strada? Lo blocco per un semplice motivo perché abbiamo fatto tante richieste. Sempre un differentismo totale da tutti. Allora non abbiamo trovato altro modo, solo quella. Prendiamo degli interventi subito, ma subito no? Che hanno a passare due anni, ti hanno come passare la prima volta, che hanno passato quattro anni, cinque anni. Voi avete fatto più volte la richiesta? Almeno da cinque, sei anni che facciamo richieste, ma non è vero. Vengono quelli della ghela solo per prenderci in giro perché ci dicono qua non possiamo fare niente e ce ne andiamo. Solo questo sono venuto a fare. Voi volete sostanzialmente che gli alberi vengano potati? Potati e esportati quelli che fanno male. Ci sono degli alberi con delle spine che non si può nemmeno appoggiare. hanno fatto cadere tutti i marciapiedi, si sono tirati tutti, le radici sono sotto casa. Queste cose sono incredibili. Ma poi guardate attentamente quello che succede appena c'è un po' di vento. È una cosa inguardabile. Dobbiamo stare barricati con le porte chiuse, finestre chiuse. Nessuno, tutti con l'allergia, tutti. Alla, non c'è nemmeno una persona che non è con l'allergia. Ma per quale motivo dobbiamo fare le cose di testa nostra? No, noi vogliamo passare la preferenza al sindaco e alla dirigenza comunale per vedere se loro intervengono. Sul posto si è legato il sindaco Domenico Messinese il quale ha assicurato a breve un intervento. In questo tratto di strada ci vuole un intervento non a spot per lasciarlo spoglio ma per poter sostituire sostanzialmente le essenze. Quindi ci vuole un intervento un pochettino diverso. Poi c'è anche un altro problema che per poter sostituire questi benetti alberi, per poterli tutelare. Ci sono dei periodi in cui si possono fare. Quindi ci sono addirittura gli interventi che possono essere arrivati in più step. Come abbiamo fatto per esempio in piazza. Prima siamo dovuti intervenire per poter ridurre la chioma, dopodiché, una volta che sono cicatizzati, siamo intervenuti per poterli estirpare. Quindi non è un lavoro che si fa a spot di intervento ma non è quello che vogliamo fare. Quello che vogliamo fare invece è un intervento in modo tale da sapere già come deve essere la fine, che tipo di essenze mettere in sostituzione e quale mantenere. Questo è un lavoro che già era stato demandato di fatto alla Ghelas come ha fatto in altre zone della città e quindi è chiaro che non sarà domani perché farlo domani sarebbe sostanzialmente un intervento non risolutivo. Quello che si deve fare è invece qualcosa di più concreto. Grazie a tutti.